Buon venerdì 22 dicembre, sostizio d'inverno. Devo fare una precisazione questa mattina. Alcuni venerdì, insieme a Giovanni Tribellato, stiamo leggendo, commentando, pensando intorno alla Laudate Deum, senza nessuna intenzione di fare del proselitismo religioso. E per fare una riflessione a queste ore del mattino è un po' complicato. Posso costringere le persone a collegarsi, venire a registrare la riflessione. E dunque la riflessione viene registrata, in questo caso, uno o due giorni prima. Ieri avevamo registrato la Laudate Deum nei paragrafi che successivamente incontriamo nel corso di questa esplorazione meditante. Purtroppo, per un mio errore probabilmente, non ho ben scaricato il file, ma, in giornata, posso recuperarlo e lo invio. Perché possa anche questo rappresentare una opportunità per riflettere nella lode, nei confronti della trascendenza che è qui tra noi. Lodare Dio non significa solo volgere lo sguardo in alto, ma allo stesso tempo fare attenzione a ciò che è intorno a noi, a ciò che è stato posto in un gradino inferiore per quel desiderio narcisistico dei privilegi dell'Occidente di guardare dall'alto in basso, lasciando solo le briciole a quanti sono stati sfruttati per la nostra immensa stupidità. Sì, siamo dei soggetti appartenenti alla specie Homo sapiens, ma siamo largamente insipiens, insipienti, sciocchi, stupidi e creduloni. Dico questo perché la lode si rivolge nella trascendenza, immanente, concreta, ma allo stesso tempo capace di scombrare il campo da qualsiasi forma di auto-referenzialità. Queste riflessioni non hanno nessuna intenzione di influenzare il prossimo. Lo dico perché in questi giorni abbiamo una polemica intorno a una famosa influencer, Chiara Ferragni, la quale ha milioni di follower. Poi si scopre che ha fatto largamente i fatti suoi. E questo non dovrebbe sorprenderci, perché anche la politica fa così. In fondo oggi i leader politici si danno un grande affare nel trovare quelli che vengono definiti gli spin doctor, cioè quelli che sono molto abili nelle tecniche di comunicazione e di persuasione di massa. Poi ogni leader politico ci mette di suo e i talenti che però sono molto lontani dalla capacità di amministrare il bene comune perché sono caratterizzati soprattutto dall'auto-referenzialità e una modalità che ha caratterizzato sempre ogni forma di tirannia. Perché in questi giorni scopriamo anche in un articolo che un'analisi fatta relativamente all'uso dei social Giorgia Meloni è prima tra i politici. Abilissima lo è stato anche Salvini a suo modo anche Berlusconi più che sui social stava sulle televisioni. dunque abbiamo una sequenza pluridecennale di una politica narcisistica e autoreferenziale che non ha nessuna intenzione di fare il bene comune ma semplicemente gli interessi della leadership di turno. Ma il problema non è questo è il problema che siamo destinati a essere dei creduloni se stiamo solo nei social senza alcuna intenzione di avere una coscienza critica. Magari ci peritiamo anche di essere particolarmente intelligenti abili progressisti aperti al futuro allo stesso tempo attraverso una interpretazione maldestra della realpolitik giustifichiamo tutto perché sotto sotto quando vediamo un leader che trionfa incominciamo a idolatrarlo anche quando ci dichiariamo opposti al suo pensiero e alle sue azioni e questa idolatria del leader rivolta a ciò che è opposto a noi si trasforma in un desiderio insano di trovare un leader con uguali abilità narcisistiche se non lo trovi e non sei d'accordo con il narcisista di turno che sembra trionfare che cosa fai? Non vai più a votare questo è il grande dramma delle democrazie oggi in particolare quella italiana siccome nel campo opposto alla destra nella sinistra non si trova un leader abilissimo nei social in tutti i media anche media compresa la televisione allora non guardi più ai programmi politici non guardi più agli obiettivi non guardi più agli ideali desideri semplicemente farti trascinare dal tiranno democratico di turno non funziona così anzi purtroppo funziona così purtroppo l'uso della tecnica della persuasione di massa sta ottenebrando le coscienze e noi riprendiamo senza saperlo il tema indicato da Etienne de la Boissy il quale ha scritto un saggio formidabile che è stato ricordato anche da Alina nel corso della scuola primaria l'auto asservimento la nostra schiavitù volontaria siamo autocostretti non costretti potremmo ribellarci ma non lo facciamo a essere servi non servitori del creato eh servi dei potentati di turno sotto sotto purtroppo culturalmente c'è una scarsa disponibilità a mettersi in discussione a riprendere la rotta di un pensiero e di un'azione politica la quale abbia a cuore l'autotutela e l'autopromozione della salute la salvaguardia del creato emblematicamente penso che l'ecologia sociale antropo spirituale concretizzata nell'esperienza dei club a partire dai club degli alcolisti in trattamento poi alcologici territoriali di ecologia familiare club udolin di ecologia sociale antropo spirituale chiamateli come volete non gruppi ma comunità in questa semplice sequenza di descrizione di ciò che la proposta dei club fa le comunità locali vi è un preciso significato di intenzione di prendere in seria considerazione il cambiamento della cultura esistente che emblematicamente è rappresentata dal consumo delle bevande alcoliche ma non si ferma lì ma se non troviamo un dettaglio intorno al quale metterci alla prova è molto difficile che riusciamo a ribaltare la cultura esistente perché la complessità è praticabile solo nella concretezza della vita quotidiana non in una astrazione somma e non è possibile cambiare la cultura prendendo tutti i dettagli che la costituiscono si parte da un dettaglio dalla semplicità della vita quotidiana dalla piccola esperienza di un club si parte dal sintomo per poter interpretare i meccanismi che costituiscono il disagio esistenziale del tempo corrente che quando riguarda aspetti comportamentali ideativi emozionali e sentimentali questo disagio viene collocato nell'ambito della categorizzazione psichiatrica compreso il consumo di bevande alcoliche di sostanze psicoattive illegali di tendenza irrefrenabile verso la scommessa e l'arricchimento rapido o quando accade che la persona si perde in una realtà largamente inventata attraverso la tecnologia generativa questa modalità esistenziale di quelle categorizzazioni che sono state definite autismi ikikomori e tante altre categorie che chiudono nei confronti della realtà perché si autosoddisfano tramite ciò che va oltre la realtà stessa ma in realtà non va oltre la realtà non è capace di cogliere la realtà nella sua contingenza nella sua piccola dimensione del dettaglio piccola dimensione del dettaglio questo è il club un seme fecondo mi viene in mente un brano del Vangelo nel quale si afferma che il piccolo seme ha generato il più grande degli alberi nel quale gli uccelli hanno nidificato è una rappresentazione estremamente poetica capace di sollecitarci non a soffermarci sul seme ma a partire dal seme rendere possibile un processo coevolutivo con quel seme verso la grandezza dell'esperienza nel creato generativa di stupore sorpresa imprevedibilità e rappresentante soprattutto un invito a entrare nel merito della contemplazione concreta non vi è nulla di più concreto della contemplazione perché in questa dimensione di trascendenza e contemporaneamente di immanenza possiamo fare esperienza di un discernimento che abbiamo perso totalmente di vista ed è un discernimento nella condivisione è la vita comunitaria è chiaro che per poter approfondire questi temi non è sufficiente una riflessione di mattino di primo mattino bisogna entrare nel merito pertanto io sollecito soprattutto in questo tempo di Natale di riorganizzare le proprie esistenze intorno alla perseveranza settimanale questo a mio parere deve essere la grande evoluzione del tema dei club il tema che riguarda l'educazione ecologica continua fare in modo che con perseveranza e con rigorosità ma anche soprattutto con gioia trasformare la cultura con gioia significa entrare nella dimensione della giustizia della pace della misericordia della non violenza ebbene se facciamo questo l'impegno una volta alla settimana al club uno spazio di meditazione e trascendenza e contemplazione sempre settimanale prendiamoci due tre ore oltre al club per fare in modo non di influenzare il prossimo ma di non farci influenzare dalla cultura dominante non farci rinchiudere dentro a categorizzazioni diamo vita a un processo di liberazione che tutto sommato non chiede grandi sacrifici mettere in discussione il proprio comportamento sul bere o altri comportamenti garantire la propria presenza perseverante una volta alla settimana per un'ora e mezzo non è un granché ma bisogna farlo sempre e allo stesso tempo bisogna farlo sempre tutte le settimane anche trovare dei modi conformi alle realtà locali e alle risorse presenti nel quale si apre una meditazione che spazia tra la nostra coscienza critica e gli eventi che accadono nella realtà quotidiana tutto questo non rappresenta un modo di essere dei club veramente politico ma soprattutto culturale ma senza mai eludere la questione politica perché i club certo non aderiranno mai a un partito o movimento ma sono di fatto un'azione politica sono apartitici ma non sono apolitici non sono coltivatori dell'antipolitica ma sono testimonianza che oggi la politica è possibile soprattutto in un processo di liberazione dal soggiogamento che incontriamo attraverso appunto gli influencer i quali hanno a cuore soprattutto i propri interessi economici che siano definiti influencer dei social o leadership politiche in entrambi i casi non c'è nessuna attenzione al bene comune e quando viene recitato è semplicemente una presa per i fondelli questo recitare l'abbiamo visto intorno alla questione voglio obbligare il presepio ma che si vergognino stanno di fatto banalizzando un messaggio di salvezza per costruire possibilità di consenso sono ossessionati dal consenso per questo non sono dei buoni politici e gli influencer probabilmente analogamente sono influenzati dal proprio narcisismo e fa un po' specie quando sorge una polemica tra l'influencer e il politico narcisista in questo caso si tratta di due donne spiace perché ritengo che nel femminile vi sia la concretezza del discernimento l'apertura al processo di liberazione ma evidentemente ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola e quel femminile che è costituito anche dalla rappresentazione di Maria di Nazareth quel femminile dovrebbe essere prorompente liberando l'umanità da qualsiasi desiderio di potere mortificante perché nel femminile transita la vita e io credo che il femminile sia anche in quella entità che chiamiamo il maschile la vera distinzione va fatta tra la dimensione dell'amore e la dimensione del potere abbiamo bisogno però oggi più che mai di perseverare nell'apprendimento possiamo cambiare le formule i moduli proposti dei club troppo infrequenti risultano oggi inappropriati per affrontare il cambiamento della cultura abbiamo bisogno di perseverare di settimana in settimana perché questa è la scansione temporale che l'homo sapiens si è data e in virtù di questo i club hanno una cadenza settimanale ma anche il percorso di educazione ecologica continua deve avere una cadenza settimanale io credo che tutti i membri di club dovrebbero trovare l'opportunità considerandola veramente un'opportunità dedicando del tempo allo sviluppo di questa opportunità un'opportunità di messa in discussione di se stessi ecco che allora il club allargando la propria prospettiva di accoglienza della sintomatologia del disagio spirituale radicalizzando il pensiero ecologico sociale antropo spirituale rendendolo concreto una prospettiva di ecologia radicale profonda e integrale ecco che i club oggi possono rappresentare un piccolo seme che fa germogliare un grande albero che fruttifica amore solidarietà amicizia e rispetto della diversità buona giornata a tutte e a tutti e più tardi manderò anche la riflessione sulla laudate deum che abbiamo fatto insieme a Giovanni di Trivellato buona giornata